E' stato arrestato il complice di 17 anni del muratore Domenico Federico, 22enne di Belmonte Mezzagno, arrestato per una violenta aggressione a un'anziana di Vienpedocler Estiva a Palermo lo scorso 7 maggio. Entrambi sono accusati di tentato omicidio. Federico è stato arrestato tre giorni dopo e ha confessato anche davanti al GIP che ha colpito con una forbice un'anziana di 83 anni. La donna è stata ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Villa Sofia dopo essere stata aggredita nella sua abitazione. La donna si era accorta che dalla sua casa mancava il borsello con i soldi e i suoi documenti. Ha subito sospettato degli operai che erano stati a casa sua per alcuni lavori nelle settimane scorse. Ha chiamato il muratore per un chiarimento. Federico ha confermato il racconto della donna dicendo di aver agito in preda a un raptus. La donna infatti lo avrebbe subito accusato del furto e inveito contro di lui. Quando le ho tappato la bocca con la mano, ha spiegato al GIP Nicolaiello, mi ha morso e lì non ho capito più nulla. Preso le forbice e l'ho colpita. Federico e il 17enne avrebbero anche tentato di soffocarla con un fular e un cuscino. Poi sono scappati con una donna a bordo di una Fiat 500. La vittima ha finto di aver perso conoscenza e ha chiamato i vicini che hanno chiamato i soccorsi. Inizialmente i poliziotti credevano che l'aggressione fosse scaturita da un tentativo di rapina. Si sono accorti che dall'abitazione sono stati messi a segno diversi futti risalenti nel tempo. Alla donna mancano infatti gioielli e oggetti preziosi. Poi però, grazie alla ricostruzione di Federico, si è risalita l'esatta dinamica. Il minorenne ha fornito agli inquirenti una versione di quanto accaduto, lacunosa e contraddittoria, ed è stato condotto nel carcere minorile di Palermo.